Se dovessi utilizzare un termine per descrivere l'Accademy di Lincoln's, sicuramente direi completa. Mi chiamo Camilla Russo, ho 28 anni e sono venuta cresciuta a Lecce. Qui a Lecce, dopo il diploma inicio classico, ho conseguito la laurea in fisica e durante il percorso diversitario ho vinto una borsa di studio Erasmus Plus che mi ha permesso di studiare per un semestre in Finlandia. In Finlandia, tra gli altri corsi, ho potuto seguire un corso di programmazione, in particolare in Java in C++, che mi ha fatto conoscere ed appassionare al mondo dell'informatica. Quindi durante la stesura della tesi, tramite il portale Alma Laurea, sono venuta a conoscenza della possibilità di partecipare all'Accademy di Lincoln's e quindi, dopo aver inviato la mia candidatura, sono stata delenzionata. Ho scelto di proseguire l'Accademy Talent Incubator for Financial Services di Lincoln's Group in collaborazione con Flowey perché mi sono resa conto, già dai primi giorni dell'Accademy, che mi piacerebbe lavorare nell'ambito assicurativo per migliorare i servizi dei clienti. Infatti, avendo modo di conoscere e di approfondire il funzionamento degli IP nell'ambito dei servizi finanziari, ho capito che vorrei avere un ruolo attivo nella progettazione di nuovi prodotti e servizi che si possano focalizzare sulle trasformazioni digitali, ma che soprattutto mirino a sviluppare delle relazioni di vantaggi bilaterali tra l'azienda e i clienti. Adesso sto continuando un percorso di formazione su una soluzione di mercato leader per l'area assicurativa. Dopo la fine dell'Accademy, infatti, sono stata inserita in un progetto insieme ad un team, ho avuto la possibilità di continuare la mia formazione Ad un mio amico consiglierei di iscriversi all'Accademy perché credo che sia un buon modo per mettersi alla prova, per potenziare le proprie capacità e per ampliare i propri orizzonti. Ritengo, infatti, che un confronto diretto con i docenti dell'Accademy, che poi sono i nostri manager o i nostri futuri colleghi, sia un modo ottimo per migliorare la nostra elasticità mentale e per farci avere un'alto 160 gradi di quello che è appunto il modo lavorativo. E credo che sia uno spunto per migliorare sia il livello lavorativo che umano e infine consigliere l'Accademy perché sicuramente si crea sempre un'inevitabile atmosfera di condivisione e di amicizia fra tutti i colleghi. Grazie a tutti!